1.200 euro al telefono per quest'opera, per il lotto numero 97, mi fa assolutamente piacere, 1.300 euro in sala, 1.300 euro in sala, io se non vedo altre offerte, il tempo di comunicarlo ha già attivato la velocità, il far wall, insomma dobbiamo allertare gli stimatici, 1.400 euro al telefono, bene, io passo in aggiudicazione, 1.400 euro 1, 1.400 euro in sala, il signore giù in fondo, seduto nell'ultima fila molto bene, 1.500 euro 1 e 1.500 euro 2, 1.600 euro al telefono, molto bene, 1.600 euro e 1, 1.700 euro, il signore in fondo si sta giudicando una scrittura racco, molto preziosa, 1.700 euro e 1 e 1.700 euro e 2, 1.800 euro al telefono è stato comunicato sì e allora 2.000 euro e 3, giudicato, il signore in fondo si sta giudicando, loco numero 97 per 2.000 euro al collezionista, allo stimato collezionista. Allora, adesso signori, dopo loco numero 97, io avevamo pensato inizialmente a fare una pausa, non la facciamo, proseguiamo nella gestione dei lotti, stiamo passando alla quarta, da questo momento in poi sfogliando, sì, esatto, esatto, sfogliando il catalogo, stiamo passando alla quarta sessione, alla quarta sessione, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, è l'ultima opera, ho sbagliato, io qui ho evidenziato, questa è l'ultima opera della terza sessione, perdonati, fatemi solo fare un controllo veloce, ho l'otto numero 97 esattamente, siamo, ecco, vabbè, poco importa, poco cambia il concetto, perché siamo, signori miei, all'ultima opera della terza sessione di Asta e poi proseguiamo, qualcuno di voi vuole fare perché una piccola pausa, vabbè, allora, se volete, signori, ci prendiamo giusto il tempo di bere però un bitter d'acqua, ve lo dico io, onestamente, volevo proseguire, è anche domenica per tutti e quindi facciamo così come quando si fa le riunioni, se mi permettono loro, signori, ci diamo proprio giusto il tempo, dopo la battuta di questo lotto di bere velocemente un caffè, un bitter d'acqua e riprendiamo subito la nostra battuta d'asta e siamo all'otto numero 98, Flavia Mantovana, libertà, titolo dell'opera, una tecnica mista su tela, un metro di altezza per 145 di lunghezza, una tecnica mista su tela del 2013, 990 euro, l'ultimo lotto, signori, attenzione, l'ultimo lotto, dai su, prima di fare questo pausa caffè, perché stiamo parlando di un'opera con una stima minima di 12 mila euro per una stima massima di 14 mila euro, 990 euro di base d'asta, su, su, signori, prima di... va bene, va bene, va bene, d'accordo, tu qui è già... va bene, quella è già andata a prendere il caffè, allora vai, chiuso il lotto e allora ripeto, signori, chiudiamo i lavori relativamente alla terza sessione di battuta d'asta, pochissimi minuti, giusto il tempo, 10 minuti e io riprendo i lavori anche perché siamo in diretta web e quindi comunichiamo dei tempi informali, auguro di più, signori, poi spero di trovarvi in sala, va bene, vi ringrazio, vi ringrazio moltissimo, a dopo!